Creatività e innovazione sono due concetti abbastanza contigui. Diciamo che la creatività è come un caledoscopio, è la capacità di connettere e di unire cose, prodotti, oggetti già esistenti in un modo tale da creare qualcosa di nuovo che non era stato pensato e che va incontro a un bisogno che non era stato espresso. Un bel esempio è la matita, con poi la gomma, matita e gomma messe insieme si crea un prodotto che scrive e cancella contemporaneamente il più. Quando è che si parla di innovazione? Quando tutta questa creatività è profittevole, cioè crea profitto, crea business, soddisfazione da parte del cliente e soprattutto migliora la qualità della vita di chi questa innovazione la usa. Creare innovazione richiede delle condizioni al contorno abbastanza importanti, non serve avere strutture. Dal mio punto di vista è importante che i luoghi dove si innova abbiano la possibilità di far scambiare idee e persone. morale della favola, l'innovazione nasce dove ci sono posti dove si frequentano persone innovative e quindi io posso avere accanto uno che ha messo a punto una start-up veramente milionaria e che al bar mi dà due o tre consigli. Questo succede di solito all'estero. In Italia abbiamo una modalità di innovazione legata più al mattone, secondo me, che non è efficace. Quindi la creatività si libera nei contesti giusti dove le idee giuste, le persone giuste si possono frequentare anche in un bar. Allora, qui si apre un problema di competenze orizzontali e verticali. Orizzontali vuol dire le discipline in più che devo conoscere per affrontare nel complesso un problema. Verticale è che competenza specifica di conoscenza da cacciavite d'oro devo avere di quel problema. Diciamo che la risposta è un po' difficile. vitruviana. C'è un buon equilibrio espresso da Leonardo. Quindi il mio parere è due o tre discipline da conoscere o avere intorno esperti di quelle discipline necessarie, ma una forte competenza. Metodo, applicazione e sudore, come dice Edison, 1% inspiration, 99% perspiration, cioè metodo, sono importanti. Allora, che differenza può esserci tra il mondo e il sistema delle start-up, per lo meno che ho potuto verificare, americano, europeo o soprattutto italiano. Due considerazioni. Intanto l'età media. In America sono molto più giovani e quindi dal mio punto di vista c'è più energia e più capacità di sogno rispetto all'età italiana che è notevolmente più alta. E poi, se posso dire, una cattiveria. Nell'ecosistema nostro italiano abbiamo intorno al mondo delle start-up tutto un mondo di formazione evangelistico-digitale che a volte mi lascia un po' perplesso e quindi c'è dietro un sistema che non so quanto effettivamente aiuti lo start-upista, mentre in America non c'è il sistema. C'è le competenze, cioè tu al bar, al surf o in spiaggia incontri l'imprenditore che ha avuto successo e che ti dà direttamente l'idea. Quindi lì c'è, o l'aiuto, quindi lì c'è direttamente lo scambio con il possessore del know-how. Da noi abbiamo un po' troppi intermediari, diciamo anche i riciclati. Qui sono ospite di un famosissimo centro internazionale di ricerca, quindi dare suggerimenti è difficile, però insomma da Trentino e da persona che si è riavvicinata a questo mondo qualche idea ce l'ho. Una è sicura, aumentare l'interdisciplinarietà, cioè far sì che sempre più discipline, ma non contigue, anche lontane dai campi di lavoro e di applicazione, entrano a far parte dei gruppi di ricerca, perché questo amplia le idee e diciamo apre il campo. Un'altra idea che non è mia, ma l'ho vista fare in una grossa azienda farmaceutica diciamo tedesca, è che per esempio negli scambi di know-how interno non siano i vari centri di ricerca che spiegano agli altri cosa fanno, ma ogni centro di ricerca spiega agli altri cosa fanno gli altri. Questo ho visto che ha avuto una capacità di fecondazione incredibile, perché non racconti tu le belle cose che fai tu, ma devi raccontare umilmente le belle cose che fanno gli altri. Questa è una cosa che ho visto molto interessante e provocatoria.